Con il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, il MIUR e l'Unione Europea investono per migliorare la qualità dell'istruzione superiore, rafforzare il sistema della ricerca e promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nelle imprese. Il programma prevede oltre 1.100 milioni di euro destinate alle imprese, agli enti di ricerca e alle università delle regioni del Mezzogiorno. Il PON sostiene la ricerca nelle 12 aree di specializzazione intelligente, settori strategici che guidano la competitività e lo sviluppo del Paese. Privilegi i progetti che utilizzano le tecnologie abilitanti, quelle che consentono di innovare i processi, i prodotti e i servizi. Per gli interventi in capitale umano, il PON investe 262 milioni di euro con il sostegno del Fondo Sociale Europeo. Per favorire la crescita professionale dei ricercatori del Sud, per la collaborazione tra università e impresa, per sostenere gli studenti nella costruzione del proprio futuro professionale. I dottorati innovativi con caratterizzazione industriale sostengono l'alta formazione e la specializzazione post lauream negli Atenei del Mezzogiorno. Prevedono periodi di studio in imprese e all'estero per formare profili di alto livello nei settori produttivi più dinamici e a elevato potenziale di crescita e occupabilità. Attivate oltre 700 borse di dottorato a maggioranza femminile. L'intervento per l'attrazione dei ricercatori e mobilità internazionale prevede nuovi contratti per progetti di ricerca, per attrarre nelle università del Sud ricercatori provenienti da altre regioni italiane o da paesi esteri, per dare ai ricercatori degli Atenei del Mezzogiorno l'opportunità di condurre progetti di ricerca all'estero e per trattenere i talenti della ricerca italiana. Studio C, fondo per la specializzazione intelligente, è lo strumento per il supporto dell'istruzione terziaria nel Sud. Consiste in prestiti senza interessi a condizioni vantaggiose per il pagamento delle spese degli studenti. Studio C sostiene la partecipazione a corsi universitari e post-universitari nelle 12 aree della strategia nazionale di specializzazione intelligente. Per i progetti di ricerca, il PON investe 880 milioni di euro con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il potenziamento delle infrastrutture strategiche per la ricerca italiana, per il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo delle imprese innovative, per la collaborazione tra settore pubblico e privato. Il potenziamento delle 18 infrastrutture di ricerca prioritarie per il Paese è volto a rafforzare gli asset fondamentali della ricerca italiana, rendere i territori più competitivi e più attrattivi per gli investimenti, diffondere il know-how e i servizi e metterli a disposizione delle imprese. Il finanziamento dei progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale sostiene le partnership pubblico-private tra imprese, università ed enti di ricerca. L'obiettivo è favorire lo sviluppo di tecnologie volte a migliorare i processi, i servizi e i prodotti, ma anche a determinare l'innovazione dei modelli di business delle imprese. Il Fondo Ricerca e Innovazione è uno strumento finanziario che investe nelle imprese con prestiti e capitali per rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. PON. Ricerca e Innovazione 2014-2020. Più valore al capitale umano, alle imprese e alle infrastrutture.